Lezione 1. Percorso di apprendimento delle lingue. Ciao Anna, come procede il tuo percorso di apprendimento delle lingue? Ciao. Finora è stato fantastico. Ho iniziato a studiare con te il 13 novembre. È fantastico. Come pratichi l'inglese ogni giorno? Beh, ascolto dieci storie ogni giorno e imparo nuove parole. Questo è un approccio intelligente. Come misurate i vostri progressi? Monitorerò quanto tempo mi ci vuole per finire questo corso e quale successo ottengo. La definizione degli obiettivi e il monitoraggio dei progressi sono fondamentali. A quale successo puntate? Voglio avere conversazioni fluenti e capire facilmente i madrelingua. È un obiettivo impressionante. Hai notato dei miglioramenti? Sicuramente. Comprendo meglio le frasi complesse e mi esprimo con maggiore sicurezza. È meraviglioso. Continuate così. La tua guida è stata preziosa nel mio percorso di apprendimento. Grazie. Sono felice di sentirlo. Ricorda che la coerenza e la pratica sono fondamentali per il successo. Assolutamente. Continuerò a lavorare sodo per raggiungere i miei obiettivi di apprendimento delle lingue. Non ho dubbi che ci riuscirai. Continuate così. Grazie per l'incoraggiamento. Sono determinato a raggiungere il mio pieno potenziale. Credo in te. Continua a sforzarti e farai grandi cose. Apprezzo il tuo supporto. Darò il massimo. Questo è lo spirito. Non esitare a contattarci se hai bisogno di aiuto. Non lo farò. La tua guida è stata preziosa. Grazie ancora. Siete i benvenuti. È un piacere far parte del tuo percorso di apprendimento. Lezione 2. Apprendimento notturno. Ciao Anna. Hai sentito parlare dell'apprendimento notturno? Ciao. Apprendimento notturno. Che cos'è quello? È un concetto affascinante in cui si impara mentre si dorme. Davvero? Come funziona? Beh, si ritiene che il tuo subconscio possa assorbire informazioni durante il sonno. È incredibile. Puoi davvero imparare una lingua in questo modo? Alcuni studi suggeriscono che è possibile migliorare l'apprendimento delle lingue attraverso il sonno. È incredibile. Come posso incorporarlo nella mia routine di apprendimento delle lingue? Un metodo è ascoltare lezioni o storie audio mentre dormi. Quindi, è come imparare nel sonno o ascoltare nel sonno? Sì, esattamente. È un modo per sfruttare al meglio le tue ore notturne. Sembra intrigante. Ci sono tecniche specifiche che dovrai seguire? Si consiglia di utilizzare le cuffie e riprodurre le registrazioni a un volume basso e rilassante. Questo ha senso. Non dovrebbe disturbare il mio sonno. Giusto. Ed è importante rivedere lo stesso materiale anche quando sei sveglio. Quindi, è un complemento alla normale pratica di apprendimento delle lingue. Precisamente. Può rafforzare ciò che hai imparato durante le ore di veglia. Sono entusiasta di provarlo. Pensi che migliorerà le mie competenze linguistiche? Vale la pena sperimentarlo. L'esperienza di tutti può variare. Non vedo l'ora di vedere se avrà un impatto positivo sulla mia crescita linguistica. Tieni presente che è solo uno dei tanti strumenti per il miglioramento del linguaggio. Naturalmente. Continuerò a esercitarmi attivamente mentre esploro questa tecnica di apprendimento notturno. Questo è l'approccio giusto. Il bilanciamento dei diversi metodi migliorerà i tuoi progressi. Grazie per avermi fatto conoscere questo concetto. È davvero affascinante. Siete i benvenuti. Sono sempre qui per condividere idee interessanti per l'apprendimento delle lingue. Lezione 3. American Dream Ciao Anna. Com'è andata la tua giornata? Ciao John. È stata una buona giornata. Che ne dici del tuo? È stato fantastico. Grazie. Volevo ringraziarti sinceramente per la tua dedizione all'apprendimento dell'inglese. Oh, sei troppo gentile. Sto solo facendo del mio meglio per migliorare. Stai facendo progressi incredibili. Adoro il modo in cui usi frasi ed espressioni in modo naturale. Significa molto per te. Le tue competenze linguistiche sono impressionanti. Grazie per le tue gentili parole. Ho fatto molta pratica nel parlare inglese nel corso degli anni. Voglio imparare a parlare correntemente l'inglese americano. Hai qualche consiglio per me? Certo. L'immersione è fondamentale. Guarda film e programmi tv americani e ascolta persone madrelingua. Questa è un'ottima idea. Mi aiuterà anche a capire meglio la cultura. Assolutamente. Inoltre, prova a intrattenere conversazioni con persone madrelingua inglese. Potrebbe essere un po' difficile per me. Vengo dall'Ucraina. Non preoccuparti. Puoi partecipare a programmi di scambio linguistico o trovare interlocutori online. Questo è un buon suggerimento. Ci darò un'occhiata. Qualche altro consiglio? Esercitati con la pronuncia e l'intonazione. Ti aiuterà a sembrare più madrelingua. Ci lavorerò su. Grazie per tutte le tue indicazioni. Siete i benvenuti. Sono qui per supportarti nel tuo percorso di apprendimento delle lingue. Lo apprezzo davvero. Sono determinato a raggiungere i miei obiettivi di lingua inglese americana. Non ho dubbi che ci riuscirai. Continuate a lavorare sodo e non arrendetevi mai. Lezione 4. Chiarire la comunicazione. Ciao Anna. Ho notato che hai menzionato qualcosa sulla conversazione precedente. Puoi fornire maggiori dettagli? Salve. Certo. Volevo dire che apprezzo i tuoi consigli. Ma a volte mi imbatto in parole o espressioni sconosciute. Capisco. È importante avere una chiara comprensione delle informazioni condivise. Puoi darmi un esempio di una parola o di un'espressione che hai trovato difficile? Beh, nella conversazione precedente, hai usato l'espressione crescita linguistica. Non conosco questo termine. Ah, capisco. La crescita linguistica si riferisce allo sviluppo e al miglioramento delle competenze linguistiche nel tempo. Grazie per la spiegazione. Adesso ha senso. Ci sono altre frasi o parole che potresti chiarirmi? Certo. Sentiti libero di chiedere qualsiasi cosa che trovi confusa o non familiare. Ottimo. Nella conversazione precedente, hai parlato di apprendimento notturno. Cosa significa esattamente? Apprendimento notturno si riferisce al concetto di apprendimento mentre si dorme, in particolare attraverso l'ascolto di materiale didattico o registrazioni linguistiche. Sembra interessante. Capisco come potrebbe essere utile. Grazie per la spiegazione. Siete i benvenuti. Ricorda che una comunicazione efficace è essenziale per l'apprendimento delle lingue. Assolutamente. È importante chiedere chiarimenti quando necessario. Apprezzo la tua pazienza. Nessun problema. Sono qui per aiutarti nel tuo percorso di apprendimento delle lingue. Non esitate a contattarci ogni volta che avete bisogno di chiarimenti o assistenza. Grazie. Il tuo sostegno e la tua disponibilità a chiarire le cose significano molto per me. Sono felice di sentirlo. Continuiamo le nostre conversazioni e continuiamo a migliorare il nostro inglese insieme. Ciao Anna. Ho notato qualcosa mentre venivo qui. È piacevole vedere qualcuno che obbedisce alle regole del traffico ed è premuroso. Salve. Sì. È fantastico quando le persone seguono le regole. Sicuramente. Rende la strada più sicura per tutti. Assolutamente. Quando i conducenti sono attenti e seguono le regole del traffico, si riduce il rischio di incidenti. È importante dare priorità alla sicurezza stradale. Seguiamo il loro esempio e comportiamoci da conducenti responsabili. Sicuramente. Facciamo uno sforzo consapevole per rispettare i limiti di velocità e utilizzare correttamente i nostri indicatori. E non dimentichiamo di cedere ai pedoni e di dare loro la precedenza quando necessario. Questo è fondamentale. I pedoni devono sentirsi sicuri nell'attraversare la strada, sapendo che i conducenti rispetteranno il loro spazio. È anche importante evitare distrazioni durante la guida, come usare il telefono o mangiare. Assolutamente sì. Le distrazioni possono portare a incidenti. Concentriamoci sulla strada e prestiamo attenzione a ciò che ci circonda. E se incontriamo conducenti spericolati? È meglio mantenere la calma ed evitare di assumere comportamenti aggressivi. D'accordo. È meglio dare la priorità alla nostra sicurezza e segnalare qualsiasi comportamento di guida pericoloso alle autorità. Essendo conducenti responsabili, contribuiamo a creare un ambiente di guida più sicuro e piacevole per tutti. Esattamente. Le nostre azioni su strada possono avere un impatto positivo sulla comunità nel suo insieme. Diamo il buon esempio e incoraggiamo gli altri a seguire le regole del traffico e ad essere anche conducenti premurosi. Insieme possiamo fare la differenza. Diamo priorità alla sicurezza e al rispetto sulla strada. Sono lieto che condividiamo la stessa mentalità. Continuiamo a essere conducenti attenti e responsabili. Assolutamente. È uno sforzo collettivo per rendere le strade più sicure. Grazie per essere un autista coscienzioso. Ciao Anna. Stavo leggendo della storia della Bibbia e di come sono emersi diversi punti di vista sulla sua interpretazione. Salve. Questo è interessante e importante che le persone abbiano l'opportunità di leggere la Bibbia da sole. Assolutamente. In passato, la Chiesa Cattolica Romana credeva che i sacerdoti dovessero interpretare la Bibbia per il popolo. Questo è un approccio diverso. È potente quando gli individui hanno la libertà di interpretare personalmente la Bibbia. In effetti, l'interpretazione personale consente una connessione e una comprensione più profonde del testo. In coraggia inoltre il pensiero critico e l'esplorazione di diverse prospettive. Questo è vero. Quando gli individui interpretano la Bibbia da soli, possono formare le proprie convinzioni spirituali. È importante rispettare le diverse interpretazioni e riconoscere che le persone possono trovare un significato in passaggi diversi. Esattamente. La bellezza dell'interpretazione personale è che consente una connessione più personale e significativa con il testo. In coraggia inoltre le persone a impegnarsi in discussioni e condividere le proprie opinioni con gli altri. Questo è un ottimo punto. Le discussioni possono approfondire la nostra comprensione e ampliare le nostre prospettive. È interessante vedere come le interpretazioni possano variare tra culture e tradizioni diverse. Assolutamente. È una testimonianza della ricchezza e della complessità della Bibbia come testo sacro. L'interpretazione personale promuove anche un senso di appartenenza e responsabilità nel proprio viaggio spirituale. Sono d'accordo. Consente alle persone di connettersi con la propria fede a un livello più profondo e di trovare una guida personale. È meraviglioso che le persone abbiano l'opportunità di esplorare la Bibbia e i suoi insegnamenti in un modo unico. Lo è davvero. Continuiamo a incoraggiare l'interpretazione personale e a rispettare le diverse prospettive che ne derivano. Sono lieto che condividiamo lo stesso punto di vista. Promuoviamo un dialogo aperto e una comprensione quando si tratta dell'interpretazione della Bibbia. Assolutamente. Insieme, possiamo promuovere un ambiente di rispetto e apprezzamento reciproci per i viaggi spirituali personali. Lezione 7. Rompere le barriere Ciao Anna. Sapevi che Wimbledon ha permesso ai professionisti di competere subito dopo l'inizio del Tour di King? Salve. Questo è interessante e sembra che Wimbledon sia stata progressista nell'accogliere giocatori professionisti. Sì, davvero. Dopo il successo del Tour di King, anche altri tornei di tennis in tutto il mondo hanno permesso la partecipazione di professionisti. Questo è un cambiamento significativo nel mondo del tennis. Deve aver aperto nuove opportunità per i giocatori professionisti. Assolutamente. Ha permesso ai giocatori di talento di mostrare le proprie abilità e competere su un palcoscenico più ampio. È stimolante vedere come sono state superate le barriere, dando ai professionisti la possibilità di perseguire la propria passione. L'abbattimento di queste barriere non solo ha giovato ai giocatori, ma ha anche arricchito lo sport nel suo insieme. Posso immaginare che abbia portato più diversità e competitività sulla scena del tennis. Sicuramente. Ha incoraggiato più giocatori a dedicarsi al tennis come professione e ha elevato il livello di gioco. È importante riconoscere i pionieri che hanno aperto la strada alle pari opportunità nello sport. Assolutamente. Il loro coraggio e la loro determinazione hanno avuto un impatto duraturo sul mondo del tennis. Ci ricorda che il progresso spesso deriva dalla sfida allo status quo e dalla spinta al cambiamento. Questo è vero. È importante continuare a sostenere l'inclusività e le pari opportunità in tutti gli ambiti della vita. Abbracciando la diversità, possiamo creare una società più vivace ed equa. Assolutamente. Celebriamo i successi di coloro che hanno infranto le barriere e continuano a sostenere il progresso. Insieme possiamo fare la differenza e ispirare gli altri a superare i limiti e perseguire i propri sogni. Sono lieto che condividiamo la stessa mentalità. Continuiamo ad apprezzare e imparare dalla storia dello sport. Grazie per questa interessante conversazione. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Allo stesso modo. Sono grato per le nostre discussioni. Continuiamo a esplorare e imparare insieme. Salve Anna. Sapevi che Otto Frank aveva stretto amicizia con gli olandese che lavoravano con lui nelle sue operazioni commerciali? Salve. È commovente. È meraviglioso quando le amicizie vanno oltre le relazioni professionali. Sì, davvero. Quando Otto e la sua famiglia si sono nascosti, questi amici erano pronti ad aiutarlo. Ciò dimostra il potere della compassione e la volontà di dare una mano nei momenti difficili. Assolutamente. È incredibile come gli atti di gentilezza possano fare una differenza significativa nella vita di qualcuno. Quegli amici devono aver dimostrato un immenso coraggio per sostenere Otto e la sua famiglia in un periodo così pericoloso. Sì, hanno rischiato la propria incolumità per proteggerli e provvedere a loro. È davvero notevole. È una testimonianza della forza delle connessioni umane e dei legami che possiamo formare in situazioni difficili. Sicuramente. Ci ricorda l'importanza dell'empatia e della difesa di ciò che è giusto. Assolutamente. Le loro azioni ci ispirano a essere compassionevoli e a tendere una mano a chi è nel bisogno. È importante riconoscere e apprezzare la gentilezza degli altri, specialmente nei momenti di avversità. La loro amicizia e il loro sostegno devono aver portato conforto e speranza a Otto e alla sua famiglia. Assolutamente. È un promemoria dell'impatto che possiamo avere sulla vita reciproca attraverso piccoli atti di gentilezza. Non potrei essere più d'accordo. Cerchiamo di essere una fonte di positività e supporto per chi ci circonda. Grazie per questa conversazione significativa. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Allo stesso modo. Sono grato per le nostre discussioni. Continuiamo a esplorare e imparare insieme. Lezione 9. Abbracciare nuove culture. Ciao Anna. Hai mai dovuto imparare una nuova lingua e adattarti a una cultura diversa? Ciao John. Sì. Ho avuto l'esperienza di trasferirmi in un altro paese e di abbracciare una nuova cultura. Questo è affascinante. Deve richiedere la volontà di imparare nuovi costumi e lingue. Assolutamente. Immergersi in una nuova cultura apre un mondo di opportunità e crescita. Posso immaginare che possa essere allo stesso tempo impegnativo e gratificante. Sì. Può esserci un disagio iniziale. Ma man mano che si acquisisce familiarità, può svilupparsi un senso di conforto. È bello sapere che Steve si sente molto a suo agio in Giappone. Come ci è riuscito? Probabilmente Steve si è sforzato di imparare la lingua e comprendere le usanze del Giappone. L'apprendimento della lingua deve aver svolto un ruolo significativo nella sua integrazione. Assolutamente. La lingua è uno strumento chiave per la comunicazione e la costruzione di relazioni. Consente una connessione più profonda con la comunità locale e una migliore comprensione del loro stile di vita. Sì. Abbracciando la lingua e i costumi, Steve è stato in grado di immergersi completamente nella cultura giapponese. È stimolante vedere come le persone possono adattarsi e sentirsi a casa in un altro paese. Sì. Parla della resilienza e dell'apertura dello spirito umano. Grazie per aver condiviso le tue idee su come abbracciare nuove culture. È una lezione preziosa per chiunque stia considerando un'esperienza simile. Lezione 10. Accettare gli ostacoli. Ciao Anna, ne saprà molte. A volte pensiamo che quando succedono cose che non vanno per il verso giusto, pensiamo che quando non si supera l'esame di avvocato. Salve. Questo è vero affrontare i contrattempi può essere scoraggiante, soprattutto quando non raggiungiamo il risultato desiderato. Sì, può essere scoraggiante, ma gli ostacoli possono anche essere preziose opportunità di apprendimento. Assolutamente. Offrono un'opportunità di autoriflessione e crescita. È importante ricordare che il mancato superamento dell'esame di avvocato non definisce le nostre capacità o il nostro potenziale. Hai ragione, è fondamentale mantenere una mentalità positiva e utilizzare l'esperienza come motivazione per migliorare. Esattamente. Possiamo usare le battute d'arresto come trampolino di lancio verso il successo. È importante analizzare cosa è andato storto e identificare le aree di miglioramento. Sì, dedicare del tempo a valutare i nostri punti di forza e di debolezza può aiutarci a prepararci meglio per il prossimo tentativo. E chiedere la guida di mentori o professionisti del settore può fornire informazioni e supporto preziosi. Assolutamente. Possono offrire consigli e strategie per aiutarci a superare le sfide e raggiungere i nostri obiettivi. È anche essenziale rimanere tenaci e non lasciare che gli ostacoli ci scoraggino dal perseguire i nostri sogni. Effettivamente. La perseveranza e la determinazione sono qualità fondamentali da sviluppare di fronte agli ostacoli. Dobbiamo ricordare che il fallimento non è permanente a meno che non lo permettiamo. Questo è un ottimo punto. Il fallimento è solo una battuta d'arresto temporanea sulla via del successo. Consideriamo le battute d'arresto come opportunità di crescita e continuiamo ad andare avanti. Non potrei essere più d'accordo. Usiamo i contrattempi come carburante per spingerci verso le nostre aspirazioni. Grazie per questa conversazione motivante. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Allo stesso modo. Sono grato per le nostre discussioni. Continuiamo a esplorare e imparare insieme. Lezione 11. Etichetta stradale. Ciao Anna. Non posso credere che alcune persone guidino così. È così irresponsabile. Ciao John. Sono d'accordo. È frustrante condividere la strada con conducenti così cattivi. È importante che tutti diano priorità alla sicurezza e seguano le regole del traffico. Sicuramente. Una guida spericolata mette a rischio non solo il guidatore ma anche gli altri. Assolutamente. Dovremmo tutti sforzarci di essere conducenti responsabili e premurosi. Mantenere una corretta disciplina di corsia e utilizzare gli indicatori di direzione può aiutare a prevenire gli incidenti. Sì. Segnalare le nostre intenzioni consente agli altri conducenti di anticipare le nostre azioni. È inoltre fondamentale mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede per evitare collisioni. Assolutamente. Il tailgating è pericoloso e non lascia abbastanza tempo per reagire ai cambiamenti improvvisi. E non dimentichiamo l'importanza di rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di tutti sulla strada. Giusto. L'eccesso di velocità è una delle principali cause di incidenti e riduce la capacità del conducente di reagire efficacemente. È altrettanto essenziale prestare attenzione ai pedoni e dare loro la precedenza quando necessario. Sì. Dovremmo essere sempre vigili e pronti a cedere ai pedoni per garantire la loro sicurezza. E come conducenti? Dobbiamo astenerci da distrazioni come usare i telefoni cellulari mentre siamo in viaggio. Assolutamente. La guida distratta può avere gravi conseguenze e deve essere evitata a tutti i costi. Cerchiamo di essere pazienti e cortesi, anche in situazioni difficili sulla strada. Concordato. Rispondere con rabbia o aggressività non fa che aumentare i rischi e non risolve nulla. Praticando una buona etichetta stradale, contribuiamo a creare un ambiente di guida più sicuro e armonioso. Grazie per questa conversazione illuminante. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Lezione 12. Splendor scozzese Ciao Anna, e la sua gente ha avuto un ruolo importante nella storia del mondo anglofono. Ciao John, la Scozia è davvero un paese affascinante con un passato ricco e leggendario. La Scozia può essere suddivisa approssimativamente in due regioni, le Highlands e le Lowlands. Giusto. Le Iglands sono famose per i loro paesaggi mozzafiato e la loro aspra bellezza. Le iconiche Highlands scozzesi ospitano montagne maestose, laghi scintillanti e castelli pittoreschi. È un luogo incantato, dove storia e natura si intrecciano in modo accattivante. Assolutamente. Le Lowlands, invece, sono caratterizzate da dolci colline e fertili pianure. Le Lowlands sono il luogo in cui risiede la maggior parte della popolazione ed è qui che si trovano grandi città come Edimburgo e Glasgow. Edimburgo, la capitale, è rinomata per la sua straordinaria architettura e la vivace scena culturale. E Glasgow è nota per la sua arte, musica e patrimonio industriale. È una città piena di energia e creatività. Anche i contributi della Scozia alla letteratura, alla scienza e alla filosofia sono degni di nota. Sì, personaggi famosi come Robert Barnes, Sir Walter Scott e Adam Smith sono tutti originari della Scozia. Il popolo scozzese ha un forte senso di orgoglio nazionale e le proprie tradizioni culturali distinte. Dai giochi delle Eagland alla musica e alla danza tradizionali, il patrimonio della Scozia viene celebrato con passione. E non dimentichiamo il whisky scozzese, famoso in tutto il mondo per il suo sapore caratteristico. Effettivamente. Il whisky scozzese è una pietra miliare delle esportazioni scozzesi e un simbolo di artigianalità. La bellezza naturale, la ricca storia e la vivace cultura della Scozia la rendono una destinazione affascinante da esplorare. Assolutamente. È una terra che attira avventurieri, appassionati di storia e chi cerca un'esperienza autentica. Grazie per questa conversazione illuminante. È stato un piacere parlare della Scozia con te. Lezione 13. Pellegrini coraggiosi. Salve Anna, il re ha saputo dove erano e ha cercato di farli arrestare. Quindi hanno pensato a un altro piano. Salve John, i leader dei pellegrini, come William Brewster, erano determinati a trovare un modo per mettere in pratica le loro convinzioni. Sapevano di dover sfuggire alle persecuzioni e trovare un posto dove poter pregare liberamente. Decisero di intraprendere un viaggio nel nuovo mondo, alla ricerca della libertà religiosa e di una vita migliore. È stata una decisione coraggiosa lasciare tutto ciò che conoscevano per un futuro incerto. Assolutamente. Hanno affrontato numerose sfide e difficoltà durante il loro viaggio attraverso l'Atlantico. La Mayflower, la nave su cui navigavano, incontrò tempeste e mare agitato lungo la strada. Nonostante le difficoltà, i pellegrini perseverarono, ancorandosi a Plymouth, Massachusetts, nel 1620. Arrivati in una nuova terra, affrontarono inverni rigidi e risorse limitate, ma la loro determinazione non vacillò mai. I nativi americani, come Squanto, hanno svolto un ruolo cruciale nell'aiutare i pellegrini a sopravvivere e ad adattarsi. Grazie alla loro resilienza e collaborazione, i pellegrini fondarono la colonia di Plymouth, una fondazione per i futuri insediamenti. La loro storia è una testimonianza dello spirito umano e della ricerca di libertà e opportunità. Il viaggio dei pellegrini e l'istituzione della colonia di Plymouth hanno lasciato un segno indelebile nella storia americana. La loro eredità viene celebrata ogni anno durante il Ringraziamento, una festa che commemora la loro festa del raccolto. La ricerca della libertà religiosa da parte dei pellegrini e il loro spirito duraturo continuano a ispirare le persone oggi. La loro storia ci ricorda l'importanza di difendere le nostre convinzioni e affrontare le sfide con coraggio. Grazie per questa conversazione illuminante. È stato un piacere parlare dei pellegrini con te. Lezione 14. La riforma di Martin Lutero Salve Anna. Lutero credeva che fosse sbagliato permettere alle persone di comprarsi la libertà di commettere atti contrari agli insegnamenti della Chiesa. Salve John. La posizione di Martin Lutero contro la vendita delle indulgenze ha scatenato la riforma protestante. Le 95 tesi di Lutero, affisse sulla porta della Chiesa, sfidavano l'autorità e le pratiche della Chiesa Cattolica. I suoi scritti si diffusero in tutta Europa, portando a discussioni e dibattiti diffusi sulla fede e l'autorità religiosa. Lutero ha sottolineato l'importanza della fede e della Bibbia come fonte ultima di verità religiosa. Credeva nel sacerdozio di tutti i credenti e sosteneva la traduzione della Bibbia nelle lingue vernacolari. Le idee di Lutero risuonarono tra molti che erano insoddisfatti della corruzione e della gerarchia all'interno della Chiesa. La riforma protestante portò alla creazione di varie denominazioni protestanti e a un significativo cambiamento nel potere religioso. Ha avuto anche profonde implicazioni politiche e sociali, plasmando il corso della storia in Europa. La riforma ha sfidato lo status quo e ha aperto la strada alla libertà religiosa e all'interpretazione individuale della Bibbia. Il coraggio di Lutero nel difendere le sue convinzioni continua a ispirare le persone a mettere in discussione e cercare la verità. Il suo impatto sul cristianesimo e sul pensiero religioso è innegabile e continua a farsi sentire ancora oggi. Grazie per questa conversazione illuminante. È stato un piacere parlare con voi di Martin Lutero e della riforma. Lezione 15. Libertà di scelta. Ciao Anna. Le persone dovrebbero essere in grado di scegliere cosa guardare in tv. Ciao John. Molte di queste persone credono che sia improbabile che la televisione violenta influenzi il comportamento. È un dibattito in corso da anni. Se i contenuti violenti influenzino le azioni nella vita reale. Alcuni sostengono che gli individui abbiano l'autonomia di fare le proprie scelte visive senza interferenze esterne. Credono nella responsabilità personale e che l'esposizione alla violenza non porti necessariamente a comportamenti violenti. Tuttavia, altri sostengono che i media, inclusa la tv, possono modellare atteggiamenti e comportamenti, specialmente nelle persone vulnerabili. Sottolineano l'importanza della programmazione responsabile e il potenziale impatto sulle menti impressionabili. Gli studi hanno dimostrato correlazioni tra il consumo violento dei media e le tendenze aggressive. Ma è anche fondamentale considerare altri fattori che contribuiscono alla violenza, come l'educazione e le esperienze personali. Vero. È una questione complessa senza una risposta definitiva. Persone diverse possono rispondere in modo diverso alle influenze dei media. Ecco perché è essenziale avere discussioni aperte ed esplorare diverse prospettive sulla questione. Assolutamente. Impegnarsi nel pensiero critico e nell'alfabetizzazione mediatica può aiutare le persone a navigare tra i contenuti che consumano. In definitiva, è necessario trovare un equilibrio tra libertà di scelta e pratiche mediatiche responsabili. Promuovendo la consapevolezza e la comprensione, possiamo promuovere una società più informata. Grazie per questa stimolante conversazione. È stato un piacere parlare con te della libertà di scelta. Lezione 16. Preferenze relative alle bevande Ciao Anna. Parliamo delle diverse varietà di bevande. Ciao John. Ci sono così tante opzioni tra cui scegliere, che vanno dalle bevande analcoliche a quelle alcoliche. Molte persone apprezzano il gusto delle bevande alcoliche, ma molte apprezzano anche le alternative analcoliche. Questo è vero. Alcuni preferiscono la ricchezza e la complessità dei vini, mentre altri apprezzano la freschezza delle birre. E non dimentichiamo i cocktail, che offrono una vasta gamma di sapori e combinazioni. Assolutamente. I cocktail possono essere sia creativi che rinfrescanti, con infinite possibilità. Sul lato analcolico, ci sono succhi di frutta rinfrescanti, frullati e tisane. Queste bevande forniscono idratazione e un'esplosione di aromi naturali senza la gradazione alcolica. È interessante come le preferenze personali possano variare così tanto quando si tratta di bevande. Sì, le preferenze di gusto differiscono in base al background culturale, alle esperienze personali e persino all'umore degli individui. Ed è meraviglioso avere la libertà di esplorare e scoprire nuovi sapori. È anche importante fare scelte responsabili e bere con moderazione. Assolutamente. La moderazione assicura il divertimento senza compromettere la nostra salute e il nostro benessere. Grazie per questa coinvolgente conversazione. È stato un piacere discutere con te delle preferenze relative alle bevande. Ciao Anna, parliamo dell'atmosfera intensa che si respira in un'aula di tribunale. Ciao John, un'aula di tribunale può essere un ambiente affascinante, soprattutto durante un processo. La stanza è in genere piena di aspettative quando il giudice e gli avvocati prendono posizione in prima linea. Gli avvocati lavorano diligentemente per presentare il loro caso, esaminando i testimoni e presentando le prove. È affascinante vedere come costruiscono le loro argomentazioni e usano tecniche persuasive. Il controinterrogatorio può essere particolarmente avvincente, poiché gli avvocati mettono in discussione la credibilità dei testimoni. I testimoni svolgono un ruolo cruciale nel dramma del tribunale, condividendo le loro testimonianze ed esperienze. Le loro parole possono influenzare l'esito del processo e avere un impatto sulla vita delle persone coinvolte. Il giudice, con la sua autorevole presenza, assicura che il procedimento sia equo e lecito. Decidono, gestiscono le obiezioni e guidano la giuria nel raggiungimento del verdetto. La giuria, composta da semplici cittadini, ascolta attentamente e delibera per determinare la sorte dell'imputato. La tensione aumenta quando la giuria emette il verdetto, concludendo il processo. L'aula di tribunale è un teatro di giustizia, dove le storie si svolgono e le vite possono essere cambiate per sempre. Mostra il potere del sistema legale nella risoluzione delle controversie e nel rispetto della legge. Grazie per questa coinvolgente conversazione. È stato un piacere parlare con te del dramma giudiziario. Ciao Anna, video come questo rendono l'apprendimento delle lingue più coinvolgente ed efficace. Ciao John, sono lieto che li trovi utili. I contenuti visivi e audio possono migliorare l'acquisizione del linguaggio. Assolutamente. I video forniscono un contesto reale, esercitazioni di pronuncia ed esposizione a diversi accenti. Offrono anche segnali visivi che aiutano a comprendere e ricordare nuovi vocaboli. Inoltre, è divertente imparare attraverso i video perché sembra di guardare una mini-lezione di lingua. È come immergersi nella lingua senza alzarsi dai nostri posti. E la varietà di contenuti video disponibili ci consente di esplorare diversi argomenti e aree di interesse. Che si tratti di tutorial, interviste o cortometraggi, ogni video offre opportunità di apprendimento uniche. I video offrono anche la possibilità di osservare e imparare dalle espressioni e dai gesti naturali dei madrelingua. Possono aiutarci a cogliere le sfumature del linguaggio, che i libri di testo potrebbero non cogliere. Esattamente. I video colmano il divario tra l'apprendimento formale delle lingue e l'uso nel mondo reale. E possiamo sempre riprodurli, metterli in pausa o riavvolgerli per comprendere appieno il contenuto. Grazie per aver apprezzato il valore dei video nell'apprendimento delle lingue. Sono lieto di poterti aiutare nel tuo viaggio in inglese. Ti sono grato per la tua guida. Continuiamo a esplorare e imparare insieme attraverso video coinvolgenti. Assolutamente. L'apprendimento tramite video è un modo divertente ed efficace per migliorare le nostre competenze linguistiche. Ciao Anna. Trovare un equilibrio tra le responsabilità può essere difficile. Ciao John. È vero. A volte dobbiamo destreggiarci tra più attività e fare scelte difficili. Di recente, i miei amici mi hanno portato i compiti a casa e abbiamo avuto delle visite davvero piacevoli. Sembra divertente, ma ho dovuto accettare il fatto che non potevo unirmi a loro. È essenziale stabilire le priorità e gestire il nostro tempo in modo efficace per adempiere ai nostri obblighi. Assolutamente. Dobbiamo valutare l'importanza e l'urgenza di ogni compito. Stabilendo delle priorità, possiamo assicurarci di allocare il nostro tempo e le nostre energie con saggezza. È anche utile delegare compiti o chiedere supporto quando necessario. Sì, chiedere assistenza può alleggerire il carico e prevenire il burnout. Ed è fondamentale comunicare i nostri limiti e confini agli altri. Esprimendo i nostri vincoli, possiamo gestire le aspettative ed evitare di impegnarci troppo. Il bilanciamento delle priorità richiede consapevolezza di sé e capacità di prendere decisioni informate. È un'abilità che si sviluppa nel tempo e con la pratica. In effetti, trovare l'equilibrio ci consente di condurre una vita produttiva e appagante. Grazie per aver discusso dell'importanza di bilanciare le priorità. È essenziale per la crescita personale e il successo. Lezione 20. Viaggi memorabili. Ciao Anna, hai mai avuto un'esperienza di viaggio memorabile? Ciao John, assolutamente. Uno dei miei viaggi più memorabili è stato quando ho visitato Parigi. Sembra incredibile. Potresti condividere un momento clou del tuo viaggio? Certo. Ricordo che l'atterraggio è avvenuto senza intoppi, con una bellissima vista sulla città. Deve essere stato mozzafiato. Cosa hai fatto dopo essere sceso dall'aereo? Ho ringraziato gli assistenti di volo per il loro servizio e ho proceduto alla scoperta della città. Esplorare un posto nuovo può essere così eccitante. Quali sono state alcune delle cose che hai fatto a Parigi? Ho visitato monumenti iconici come la Torre Eiffel e ho fatto un giro in barca lungo la Senna. Sembra pittoresco. Hai provato qualche tipo di cucina locale durante il tuo viaggio? Assolutamente. Mi sono concessa deliziosi pasticcini. Ho gustato il formaggio francese e ho sorseggiato vini squisiti. Sembra una delizia gastronomica. Hai incontrato barriere linguistiche durante il tuo soggiorno? Ci sono stati alcuni casi in cui ho dovuto fare affidamento su frasi francesi di base, ma la maggior parte delle persone era amichevole e comprensiva. È fantastico che tu sia riuscito a comunicare in modo efficace. Hai fatto nuove amicizie durante il tuo viaggio? Sì. Ho incontrato altri viaggiatori provenienti da diverse parti del mondo e ho scambiato storie ed esperienze. Incontrare persone di diversa estrazione può essere arricchente. Come ti sei sentito quando è arrivato il momento di lasciare Parigi? Era agrodolce. Ero triste all'idea di lasciare la città, ma portavo con me ricordi ed esperienze meravigliose. Grazie per aver condiviso la tua memorabile esperienza di viaggio. Sembra un viaggio fantastico. Lo era davvero. Viaggiare ci permette di ampliare i nostri orizzonti e creare ricordi duraturi. Continuiamo a esplorare il mondo e ad imparare attraverso le nostre avventure. Grazie per le nostre coinvolgenti conversazioni. Lezione 21. Paradisi tropicali. Ciao, Anna. Hai mai visitato qualche destinazione tropicale? Ciao, John. Sì. Ho avuto la fortuna di esplorare alcuni paradisi tropicali. Sembra meraviglioso. Cosa rende le destinazioni tropicali così attraenti? Beh, sono noti per il loro bel tempo. Le temperature sono generalmente comprese tra 20 e 30 gradi Celsius. È perfetto per godersi le attività all'aperto e crogiolarsi al sole. In quali luoghi tropicali sei stato? Ho visitato Bali, le Hawaii e le Maldive. Ognuna aveva il suo fascino unico. Bali è conosciuta per le sue splendide spiagge e la sua vivace cultura, giusto? Assolutamente. Le spiagge sono incontaminate e la gente del posto è incredibilmente accogliente e cordiale. Che mi dite delle Hawaii? Ho sentito che è un paradiso per gli appassionati di surf. Sì. Le Hawaii sono il paradiso dei surfisti. Le onde sono fantastiche e le isole offrono paesaggi mozzafiato. E cosa c'è di speciale nelle Maldive? Le Maldive sono rinomate per i suoi resort di lusso, le acque cristalline e la vivace vita marina. Deve essere una destinazione da sogno per gli appassionati di snorkeling e immersioni subacquee. In effetti, esplorare le colorate barriere coralline e nuotare accanto a pesci esotici è un'esperienza indimenticabile. Posso immaginarlo. Hai provato qualche prelibatezza locale durante le tue avventure tropicali? Sì. Ho assaporato piatti a base di pesce fresco, frutta tropicale e rinfrescante acqua di cocco. Sembra una delizia culinaria. Hai incontrato difficoltà durante i tuoi viaggi? Le barriere linguistiche e l'adattamento alle usanze locali erano a volte difficili, ma aggiungevano qualcosa all'avventura. È vero, immergersi in culture diverse può essere sia emozionante che un'esperienza di apprendimento. Assolutamente. Allarga i nostri orizzonti e arricchisce la nostra comprensione del mondo. Grazie per aver condiviso le tue esperienze di viaggio tropicali. Sembra che tu abbia fatto viaggi incredibili. È stata una gioia. Continuiamo a esplorare e ad abbracciare la bellezza del nostro variegato mondo. Assolutamente. Continuiamo a imparare e ad apprezzare le meraviglie che ci attendono.